musica 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 scrabbate dai su ci sei fatta prima ora non ci si fa che cazzo ma no no ma perchè non sono io che rusho come un imbecille dobbiamo rushare e non rush che qui ha un quadrato fatto devi sempre correre correre scappa cername si scazzo scappa cername qui ci vale il sottofondo ma non era rushare una volta e vi siete fermati sparare deve fare sempre la sociale calma andiamo tutti a destra allora corri scappa cername ah cazzo ma sei uno stronzo scusa non volevo comunque non ti vengo più ad aiutare perchè aiuterete porta malissimo male wow scappare scappare ah di sicuro ti chiese una cosa se non lo fosse ah vabbè fino a che insegue voi allora io posso stare tranquillo qui cioè è vero che non te che segui noi no è vero aiugni gni gnu un cazzo gni salta come una lepre salta come una lepre salta come una lepre salta come una lepre oh ma oh buona allora qui ha questa orgia verso di me si sta svolgendo un'orgia verso me ok ragazzi io io mi sto curando io mi sto curando ok zoi sarà la mia puttanella per le mie ultime due minuti di vita oh cazzo no ah voi ce n'avete uno solo io ho l'esercito di tank che mi sta abbracciando gna smette di spararmi zoi mi sembra il tuo kit medico c'era un barino raggiù oh cazzo guardiamo che c'è chi è il tank e dove scendo io oh cazzo ragazzi sono nella cacca e mi sono messo in un angolino chiuso via oh va ho portato solamente 10 punti di vita oh cazzo mi sa che ne perderò molti di più cazzo che cazzo mi si è rotto il vetro non è giusto si se ti sparcare il vetro sotto muori eh me ne sono accorto secondo me è il vetro ma non pensavo che si rompesse non in tutti i giochi si rompe ma no eh eh macchina si sono caduta eh ma per tutti i busti perchè sei un idiota dopo voglio vedere quanto dura questo video ma io direi una settimana che cazzo è questo oh basta farvi i segmentali dai dai la puttana ci serve viva per come fare la esca dai ma infatti da zoppo così amere ah ah aspetta via via cazzo eh eh vabbè vuol dire che ci ridivideremo un'altra volta oh c'ho che culo c'ho tutto quello che mi serve che culo non c'è nessuno che mi insegue eh io si no si sta ma adesso sono ingroppati i zoe non è giusto era la mia troia visto azzoppando la troia ah c'è uno spravviso si ma il problema è che ormai è la troia azzoppata e ora ce l'abbiamo tutti noi guarda no cucù muro che passa da troverso il muro cucù nooo ho fatto il bagno eh zombie se tu non mi generai ahahah fede perchè hai fatto il salto della fede no no ho fatto il salto della fede me l'hanno fatto fuori il salto della fede che cazzo fai allora venitemi a recuperare nel cesso cioè via dove c'è il tank che guarda la tv ci avete un tankle di fronte che vi sta accompagnando amabilmente mi stai arrivando un po' lentamente ma sto arrivando eh se fai il mondo mi vedi un attimo per favore va porco il mi sa che t'ha praticamente lasciato da mano al tuo destino perchè t'ha tirato la mano a te voi nei denti scusa non volevo non volevo bisogna intanzi si tank va vai dall'altra parte tank vai vai è vero alcuni vanno dove cazzo li farò a lui su chiamerà oh cazzo addio carmine wiii ma che cazzo fa quest'altro ma che cazzo fa quest'altro ma non ti hai rispita che hai riuscito a trovare di vero per un po' wiii lo hai tirato via come sembra dalla serie I believe a print fly in manotesi cerchiamo di fare la cosa almeno seriamente possibile oh ma io devo prendere ancora la roba ma porca puttana ahhh ahhh no perchè sei con lo zoi poverina mi dispiace perchè mi sa che mi sa che vabbè è giusto è giusto da essere così comunque ma che cazzo quindi il ponte di legno prende fuoco dove sono andati tutti mi volevo uccidere lo stronzo hai capito? voglio vedere la tv insieme al tempo tu un bambino va? si è andato a fuoco a tutto non volevo ma wow un barile fantasma aia eeeh ti ha lanciato la molotov io ciao wow ciao 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 solo perchè mi è arrivato un coso non faccio ma dove era qui il coso del tank con la tv? mi sto facendo il giro tondo come un imbecillo è un po' chiuso laggiù comunque ve lo posso dire eeeh vuole andare di qua oh merda yeeeh oh cazzo ha perso il 50% zoi mi sa che la possiamo anche salutare perchè perchè dov'è? è fra due tank che se la stanno in gruppo andiamola andiamola qua comunque non siamo due ce l'altro in pubblico eh io sto cercando quella mi sa che se la ingiap in fronte un pupino perchè ha un HP perchè sono salita vabbè oh qui c'è roba c'è cosa che allora secondo me dobbiamo fare così sacrifichiamo Carmine poi noi scappiamo e Carmine forse se ce la fa ci raggiunge eh mamma che ci ha deciso ma io qui vedo sassi che volano fermati idiota ecco la tv non ti buttare ah certo li devo aiutare io no qui c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua cazzo di tua mamma eh vabbè e non mi si alza perchè mi butti? non mi hai buttato non tu perchè oh dove cazzo andavamo me lo spieghi? eh intimo se mi tengo a me io trovo sempre l'uscita per ogni cosa eh solo la tua uscita anale riesci a trovare se mi dovete incontrare una notte arrivano provo a usare il lanciagranate questa volta no c'ho la pistolina mongola però spara più veloce perchè se lo sorgere con la motosega ah io la motosega è l'arma più utile in queste circostanze lo sai facciamo percuregio oh check your fire oh e si vanno a infilare nei buchi più inutili del mondo perchè bisogna di qualcosa guarda che quelli li ci raggiungono ci stanno raggiungendo le eh oh ma e se ne vanno neanche ti avvisano questo albero e non ti fermo mai e chi ti ferma davanti a 700 tank fermati lì e ho detto che non mi fermerò mai meno male chi si ferma e poi fermati il e eh stanno andando un'faccia un tank vaffanculo stronzo eh vaffanculo appeso guarca tu che li ho dovutti comunque il lanciagranate non serve un cazzo ehm Sì, sei lì in un posto Uèèèèèèèèèèèè! Sì, sei lì preso! Dove sei? No, c'è il muro! C'è il muro! È chiusuuuuuu! Non mi hai visto! Spengete le torce! Ci sta arrivando Zoi! No... c'è Zoi! Cucu! Oh merda! Oh merda! ZLALOM! ZLALOM! Bagno! Oh, ciao Zoi! Mi sa che ci deve recuperare nella stanza C'è un tag che mi stava stalkerando Ce l'hai ancora comunque Che cazzo fai si butta di sotto per starto Va un po' a cascare di sotto Calmi siamo tutti nelle tue mani Di merda Oddio Ho tirato da tre anni La trappola non l'hai attivata Ma vabbè Io mica la voglio attivare Eh perché sei andato in bocca al pulsante Sì vabbè voglio vedere come ci aiuti Semplice Chiudo la porta Eh sì certo Muoviti cazzo Buongiorno Non ti sei messo a guardare Eh mi sa che Ciao Però non pare Non ando gussato Eh a voi li sono bussato È un maleducazione Hanno messo quel Hanno messo quel chilo di forza in più Giusto un po' eh Comunque qui il lancio granato non serve un tubo Mentre qui non serve un tubo nessun'arma Sì c'è qualche arma che gli fa il culo rosso Però Ecco l'altro Oh c'è il fun Ma Buongiorno Aia 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 Sei un assassino di passero Sei un passerecidio Un passerecidio Un pazzo passerecido Ma che cazzo È stato un tank con un sasso È stato un sasso con un tank Esatto È passato il tank È il sasso È Ah What the fuck Mi chiedi che non ti ho fatto dipendere a lui Oh cazzo Oh mio Oh maledetto stronzo Ma Porco zio Ma guardate che mi toccano Porco giuda Ma Lo cimano Non scoppia 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 C'era una piccola Un qualcosa Sì Sto andando piano Di E là Io sono da solo E qua Ma sono letto Qui Insomma sono letto Ok Mi ne ansucchia Cazzi Su 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 Giù su Eh bravo Dov'era la cosa Per recuperare Stiamo Andiamo Stacendo in tempo Veloce Ok Comunque Quella che ha Fatta questa mappa È vero che C'ercare di La macchina E la c'ercare di Meleggiata È vero che divertente E c'erano il calcio Del fucile in bocca Non va Che cazzo Ci fa La macchina Qua sopra E se io ti dicessi Che c'è Oh c'è una piattaforma Per l'elicottero Aiuto Sì Ma tu sei No Idiota Voglio la mamma Oh cazzo Oh cazzo Io adesso continuo a spawn Perché aspetta Un mistero Ah beh Che c***o Dietro ce l'hai Arrampicati Arrampicati Ce l'hai dietro Ah Un tank Se l'hai bloccato In posizione sexy No che facile Metti normale Proviamo Forse è più divertente Forse è più veloce Dai su Spacca culi Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Grazie a tutti.